Dai capocce, dai capocce, ritroviamo un po' di entusiasmo in questi tempi bui e tenebrosi dopo aver buttato nel cesso la qualificazione alla finale di Istanbul con una prestazione indegna una buona notizia per tutti i tifosi rossoneri chi segue da tempo questo canale lo sapeva, io lo dico da ottobre i miei sensi di pelato, la sfera del potere che supera i sensi di ragno di Spider-Man avevano la sensazione che alla fine proprio lui, il calciatore più importante avrebbe rinnovato parliamo del rinnovo di Rafael Leao, il calciatore più forte, senza discussioni della Serie A ovviamente di conseguenza della Rosa e del Milan voglio dirvi tutti i dettagli di questo contratto perché veramente ho dovuto studiare, è stata una, come possiamo dirla, un'operazione ultra fantasiosa da parte di Maldini, ne parliamo prima di cominciare però mi raccomando, like al video, commentate, condividetelo con gli amici, iscrivetevi al canale raggiungiamo i 1000 iscritti nel minore tempo possibile tempestate di like questo video perché me lo merito cazzo ero uno dei pochi ad essere positivo mi riferisco alle dirette, siete testimoni tutti, le potete vedere sull'angolo rosso nero i miei due amici Joe Dome, sempre molto pessimisti l'ho sempre detto, avrebbe rinnovato prima però di parlare di questi dettagli permettetevi di dire una cosa iscrivetevi innanzitutto al canale di Domebetti Osipiosef ogni martedì barra mercoledì lo andremo comunicando l'angolo rosso nero ore 17.30 allora ragazzi innanzitutto permettetemi di applaudire Raffaele Leao perché questa è una dimostrazione di amore una dimostrazione di amore di uno dei calciatori che forse aveva meno motivi per essere così affezionato alla maglia rosso nera fior fior di giocatori come Donna Rumma fatto esordire con la nostra maglia a 16 anni portato dove è il miglior portiere del mondo ha vinto il premio come miglior portiere del mondo grazie alle prestazioni con la maglia del Milan portato al fiore praticamente la sua carriera al suo top che ora si è rovinato a Paris Saint Germain è andato via a zero con la coda tra le gambe che sì dopo quelle parole in miele verso la maglia rosso nera è andato via a zero e permettetemi di dirmi che tra tutti gli indegni il meno indegno è stato Ciaranoglu è vero che Ciaranoglu è andato dai rivali non è vero che è andato dai rivali per 500 milioni euro in più Ciaranoglu guadagna 5 milioni più uno che praticamente lo sta ottenendo sempre a salire negli anni 6 milioni di commissioni quindi quelle erano cagate però Ciaranoglu l'ha sempre detto è vero sto contrattando con Maldini ancora non ci accordo non so se rimarrò è stato il più sincero a parole ma ora rinnova lui rinnova lui Rafa e Leao allora siete pronti a studiare perché veramente vi ricordate tutta la vicenda la diatriba della multa che Leao insieme a Lille dovevano allo sporting per quella vicenda quando ancora Leao era un bimbo e non aveva neanche per i pubblici esatto cos'è successo praticamente il Lille dall'oggi al domani ha deciso di pagare questa multa dei 21 milioni ora 20 gli sta pagando il Lille 1,5-2 il giocatore ma perché il Lille ha deciso improvvisamente di uscire questi soldi preparatevi il Milan o meglio il Milan sì doveva a Lille in caso di cessione di Leao il 15% da tutti i rumor che sono riuscito a captare tra praticamente le persone che ritengo credibili nel mondo dell'informazione sportiva il Milan ha ridiscusso la clausola con Lille che non sarà più del 15% ma sarà un po' meno Leao ora parliamoci chiaro chiedeva giustamente 7 milioni 7 milioni e mezzo netti l'anno perché ragazzi Leao basta che Varca il confine gliene danno almeno 10 di parte netta in Premier potrebbe giocare titolare praticamente in tutte le squadre quindi cosa ha fatto il Milan il Milan ha detto guarda non è giusto che io ti pago la multa perché obiettivamente io sono una parte che non c'entra nulla in questa vicenda come posso fare ad aiutarti Lille sapete che tra Lille e Milan ci sono anche rapporti stretti per la precedente proprietà il Lille esce questa somma il Milan rifinanzierà il Lille ma come praticamente Leao non ha chiesto più 7 milioni e mezzo netti si accontenta di 5 netti più bonus che saranno a salire primo anno 5 netto secondo anno di contratto 5 e mezzo netto terzo anno di contratto 6 netto e così via per i 5 anni di contratto il decreto crescita Leao praticamente lo avrà solo per l'ultimo anno di contratto perché vale per i calciatori esteri solo per i primi 5 anni di contratto quindi come ben sapete lo stipendio di Leao fosse stato 7 netto praticamente dopo il primo anno il Milan avrebbe pagato di tasse quasi 14 milioni i soldi che risparmia che Leao rinuncia a cui Leao rinuncia dal suo ricco contratto il Milan li userà per rifinanziare il Lille quindi praticamente è stata una mossa incredibile da parte del Milan hai rinnovato il calciatore più forte che hai a 5 milioni ragazzi Leao in serie A dovrebbe essere il calciatore più pagato è l'unico in grado di fare le sue giocate è l'unico in grado di partire dalla difesa di dribblarne tre segnare o passarla a Giroud per quello che poi vale un gol come contro il Napoli ora ci hanno criticato sempre lasciate andare i calciatori a parametro zero abbiamo criticato la società però ragazzi guardate sempre il risvolto della medaglia avessimo rinnovato che sia a 7 e mezzo avessimo rinnovato Ciananoglu a 6 che obiettivamente sono tutti calciatori molto più sostituibili di Leao che al giorno d'oggi per sostituirlo o ti prendi Vinicius più forte ma lo devi pagare di più o ti prendi Mbappé ancora più forte ma non lo puoi prendere e soprattutto non c'è nessuno che può sostituirlo in grado di farti le giocate di Leao a meno capite bene che se noi avessimo rinnovato Ciananoglu che sia le cifre che chiedevano oggi Leao quanto avrebbe chiesto 7 8 9 col cazzo che poi faceva questo gesto col grande cazzo l'equilibrio rispogliatoio è una cosa fondamentale c'è sempre il cosiddetto rovescio della medaglia guardate l'Inter l'Inter ha preso c'erano 6 milioni l'anno ha dato 6 milioni e mezzo l'anno a Lautaro Skriniar se l'ha andato via a zero perché chiedeva 6-7 l'anno l'Inter non glieli poteva dare si fermava a 6 bastò di quanto chiede per rinnovare non meno di 6-6 e mezzo l'anno capite che c'è sempre il risvolto della medaglia ti si è assicurato Leao il calciatore più forte della Serie A lo hai rinnovato praticamente a meno soldi di quello che effettivamente vale con tutta questa operazione incredibilmente fantasiosa e addirittura hai alzato la cross alla recessione da 150 a 175 milioni ragazzi parliamoci chiaro ci sarà una società se Leao dovesse sempre crescere nei numeri quest'anno magari farà 14 gol in Serie A sto sparando l'anno prossimo arriverà a 17-18 se Pioli possibilmente non esce pazzo e lo mette secondo punto per altri due mesi che le ha fatto perdere due mesi di numeri quest'anno Pioli però ci sarà prima o poi una squadra se Leao dovesse arrivare a 18-19 20 gol in Serie A in grado di pagare questi 175 milioni di clausola mi riferisco al PSG che vedrà tra poco perdere Mbappé mi riferisco sostanzialmente al Chelsea al Manchester City squadra dove Leao giocherebbe titolare in contrastato quindi applaudiamo la cazzo di società quando va applaudita perché il fatto di non aver rinnovato che sia Cionoglu se poi hai in qualche modo ti ha permesso di rinnovare Leao mantenendo un equilibrio di spogliatoio senza andare troppo in là rispetto ai 4 4 e mezzo che prendono Teo e Benassero come parte netta è stata un'operazione da Masterclass da parte di Maldini quindi applaudiamoli secondo me senza questo cammino in Champions senza queste introiti in più perché si chiedeva il Milan solo di passare il girone non sarebbe mai arrivato il rinnovo di Leao però va bene la proprietà il primo vero esame da parte di Gerry Cardinale era sicuramente rinnovare Leao non fare come la precedente proprietà Elliot di perderlo a zero quindi quando vanno applaudite le parti in casa vanno applaudite adesso mi aspetto un super rinnovo ovviamente di Magnanne e soprattutto un supermercato ragazzi perché dobbiamo in estate andranno via ho letto l'articolo della gazzetta quasi dieci giocatori ne parleremo in un nuovo video ragazzi cosa c'è da dire sono felicissimo in questi tempi veramente bui dopo la partita con l'Inter non avevo più speranze di nulla soprattutto avevo paura che potesse in qualche modo beneficiare il rinnovo di Leao ragazzi ha dimostrato un attaccamento alla maglia io non voglio sentire più una critica di Leao per quanto riguarda l'atteggiamento l'ho visto soffrire in panchina contro l'Inter era mani in faccia triste questi sono comportamenti che io mi aspetto da un Calabria da un Tonali che mi aspettavo da un Donnarumma che dir si voglia Calabria e Tonali onorano sempre la maglia ma D'Aleao un giocatore che lo prendi dato come stella del calcio sai già che non rimarrà invece no lui rimane al Milan ora effettivamente secondo me non rimarrà mai a vita al Milan si farà altri due o tre anni dopo andrà via però ragazzi questo è un gesto d'amore importantissimo da parte del calciatore è un gesto d'amore fondamentale questo dimostra che quando tu hai la testa perché Donnarumma poteva rimanere al Milan altri tre o quattro anni col seno di poi meno male che te li sei andata a calci in culo porca puttana perché santo Mecca Vagnano è un portiere enormemente più forte di Donnarumma però ragazzi questo dimostra che quando tu hai un minimo di intelligenza un minimo di logica un minimo di come si dice capacità anche di sapere autogestire la tua carriera perché Leo ancora magari non ti sente pronto per andare via vuole rimanere al Milan vuole ancora vincere qualcosa con l'amore del Milan questo dimostra che non è vero che è un mondo dominato solo dai soldi ma quando cazzo ti funziona la cucuzza sai fare la scelta giusta detto questo ragazzi tanti applausi alleao tanti applausi a tutte le parti in causa ci vediamo prossimamente con un nuovo video mi raccomando road to 1000 iscritti nel minor tempo possibile festeggiamo perché era la notizia che tutti noi aspettavamo da inizio anno bella raga